Il giorno dopo l'annuncio ufficiale da parte della Premier Giorgia Meloni della candidatura del sito di Sosenato Sallula ad ospitare per l'Italia l'Einstein Telescope inizia la sfida. Una sfida che durerà due anni e che vedrà l'Italia contendersi con l'Olanda la realizzazione del più potente cacciatore di onde gravitazionali mai costruito. Una sfida che parla di ricerca e lavoro, come ha spiegato la Ministra Marina Elvira Calderone. Vuol dire anche mettere in campo un grandissimo progetto di sviluppo delle aree interne del nostro paese in questo caso della Sardegna che solo nella fase costruttiva porterà nei nove anni di costruzione 36.000 giornate di lavoro. Al termine del suo intervento l'augurio per l'isola con il motto Forza Paris. In Sardegna abbiamo un motto importante, ve lo voglio consegnare anche se il Presidente della Regione è più titolato di me. Noi diciamo Forza Paris, avanti insieme. Anche la Presidente del Consiglio ha sottolineato l'importanza dell'indotto che l'Einstein Telescope genererà per la Sardegna e l'Italia. Dal punto di vista economico è una grande opportunità di indotto straordinario per l'Italia, per una regione come la Sardegna che particolarmente nelle aree interne ha le sue maggiori difficoltà. Il Ministro Calderone ricordava l'indotto straordinario per i nuovi nove anni che saranno necessari per costruire l'infrastruttura, ma anche a regime. Il Presidente della Regione Solinas ha spiegato il percorso di riconversione di alcuni siti dell'isola e l'importanza della scienza contro lo spopolamento. Stiamo facendo un grande percorso di riconversione di tutto il nostro sistema minerario. Tutto questo consolida anche un modello di sviluppo alternativo che ci consente di dire che una ricetta contro lo spopolamento per il rilancio delle zone interne può essere l'investimento nella scienza.